22 gennaio Preghiera a San Vincenzo di Saragozza Dio, fonte di ogni bene, comunicaci la forza del tuo spirito. Il 22 gennaio si commemora e si ricorda San Vincenzo di Saragozza. Egli fu diacono e martire della chiesa cattolica e nacque nel terzo secolo a Saragozza in Spagna. Morì il 22 gennaio 304 a Valencia, sempre in Spagna. Egli è il patrono di molte città italiane, tra cui ricordiamo Vicenza, Adrano, Carcinato, Rignano, Flaminio, Cernobbio, Nole, Cambiano, Capiago, Intimiano, Bevagna. Inoltre è il protettore dei Vinai. Ecco una stupenda preghiera, una supplica davvero molto breve e che potete recitare più volte per ringraziare Dio di averci dato questo santo e chiedere attraverso quest'ultimo una grazia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, fonte di ogni bene, comunica a noi la forza del Tuo Spirito, che animò il diacono e martire Vincenzo e lo rese invincibile in mezzo ai tormenti, perché la nostra fragile umanità sia sostenuta dalla potenza del Tuo amore, per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. O Dio, fonte di ogni bene, comunica a noi la forza del Tuo Spirito, che animò il diacono e martire Vincenzo e lo rese invincibile in mezzo ai tormenti, perché la nostra fragile umanità sia sostenuta dalla potenza del Tuo amore, per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. O Dio, fonte di ogni bene, comunica a noi la forza del Tuo Spirito, che animò il diacono e martire Vincenzo e lo rese invincibile in mezzo ai tormenti, perché la nostra fragile umanità sia sostenuta dalla potenza del Tuo amore, per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. positioningi nel behind innesso. Grazie a tutti.